Il Presidente della Repubblica di Romania, Ioannis, in visita ufficiale in Italia, dopo aver incontrato il Presidente Mattarella a Roma, ha scelto Napoli come tappa del suo viaggio istituzionale. Questa mattina ha incontrato il Sindaco Luigi De Magistris, che ha dichiarato «Mi auguro che durante queste ore il Presidente ha trascorso e trascorrerà nella nostra città, possa cogliere i problemi, le sofferenze, le ferite, ma anche le tante bellezze». Durante il colloquio avvenuto a Palazzo San Giacomo, Ioannis ha alloggiato il lavoro del Sindaco, «Parlando di Napoli come una città vivace, vibrante, piena di passione, abbiamo visto solo cose belle, una città viva, ed ha apprezzato la via della cultura e del turismo, che potrà portare Napoli, ha detto, ad uno sviluppo forte e sostenibile». Il Presidente si è poi soffermato sul tema delle migrazioni, ricordando l'importanza storica della città di Napoli e della sua apertura all'internazionalismo e alla multiculturalità.